Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza le leggi riguardanti gli interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e la variazione al bilancio 2021-2023. Una manovra che è stata adottata all'insegna della prudenza ma nella volontà di dare sostegno ad alcuni settori strategici della nostra Regione. Innanzitutto una misura che si caratterizza per una contrazione molto forte dell'autorizzazione all'indebitamento, questo perché ci sono una serie di finanziamenti previsti per il 2021 che sono stati dislocati nelle annualità successive. C'è da dire però che una grossa fetta di questa misura in realtà è caratterizzata da rimodulazioni. Ci sono molti interventi che avrebbero dovuto essere realizzati nel 2021 e che vengono spostati con i relativi finanziamenti nelle annualità 2022-2023. Questo soprattutto in relazione al ritardo nei cronoprogrammi di tutta una serie di interventi che avrebbero dovuto essere realizzati da altri enti diversi dalla Regione Toscana. Ci sono però delle misure effettivamente innovative da un punto di vista finanziario e in particolar modo ricordiamo 53 milioni di euro che vengono destinati alle aziende sanitarie e sono finalizzati al rilancio delle politiche di investimento delle aziende sanitarie e quasi 9 milioni di euro che vengono destinati al settore dello spettacolo, un settore che dalla pandemia è stato pesantemente alterato e che ha bisogno di un sostegno effettivo da parte delle istituzioni pubbliche. C'è anche una cifra consistente, 3 milioni e mezzo di euro nell'annualità 2022-2023, che andrà a sostegno degli enti locali per la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Un ultimo aspetto che mi preme evidenziare di questa manovra finanziaria è il fatto che c'è un consistente accantonamento al fondo di riserva di risorse che sono destinate ad evitare le possibili perdite del bilancio del sistema sanitario regionale. Questo perché sappiamo tutti che le stime che si danno al 31 dicembre di quest'anno con riferimento al fondo sanitario sono stime che possono far registrare una perdita e quindi prudenzialmente la Regione Toscana, in attesa di opportune determinazioni da parte del Governo, ha deciso di accantonare una cifra consistente proprio per evitare che si registri una perdita nel bilancio del sistema sanitario regionale. La Lega vota convintamente contro questa variazione di bilancio, da un lato perché riguarda tutta una serie di rimodulazioni per il 2022 di mancata realizzazione di opere infrastrutturali e la nostra Toscana paga un gap infrastrutturale notevole. Occorre aprire una riflessione congiunta con maggioranza e opposizione sul tema delle infrastrutture perché i soldi ci sono, a volte manca i tempi di realizzazione, la chiarezza sulla programmazione. Questo ci sta decisamente colpendo come Regione Toscana dal punto di vista competitivo. Dall'altro perché non ci convince tutta una serie di operazioni che sono state fatte recentemente dalla Regione Toscana. Questa discussione inevitabilmente si è collegata con quella sul buco di bilancio della sanità e per dire una delle disposizioni si è cercato di caricare sul bilancio della giunta regionale il debito in termini di ammortamento di 53 milioni del sistema sanitario, quindi uno sgravio. Ma la situazione non è assolutamente chiara. Noi chiediamo che Gianni sia presente, invece è continuamente assente sia in Commissione e anche oggi in Aula. Io fino adesso non l'ho sinceramente visto. Quindi è necessario che ci sia più chiarezza, più coraggio perché il momento è veramente difficile. Noi faremo di tutto per cercare di evitare aumento di tasse e peggioramento di servizi sociosanitari. Però vogliamo un confronto continuo con il Governatore che allo stato attuale manca. E' una variazione di bilancio molto particolare perché è una variazione di bilancio che sposta 76 milioni e mezzo di investimenti previsti nel 2021 al 2022 per recuperarne circa 36 che vengono destinati alla sanità, altri che vengono destinati alla cultura, altri al sociale. ma il fatto grave, a mio modo di vedere molto grave, è che nei 76 milioni e mezzo che vengono sottratti nel 2021 agli investimenti previsti in Toscana vi sono investimenti sulle infrastrutture, una su tutte la FIPILI, sul trasporto ferroviario regionale. Vengono sottratti soldi destinati a 25 milioni di euro destinati al trasporto ferroviario regionale. I treni regionali toscani viaggiano e si muovono in condizioni di precarietà assoluta tutti i giorni. Ci sono stazioni, basta andare la mattina a fare un giro delle stazioni toscane per vedere pendolari che attendono il passaggio del treno anche 40 minuti. Treni che viaggiano in condizioni di sovraffollamento folle, autobus extraurbani che viaggiano ben al di sopra dell'80% della capienza prevista dalla normativa attuale. E' un settore questo che si può permettere di vedersi sottrarre 25 milioni di euro. Le infrastrutture, la Firenze-Pisa-Livorno, è una struttura forse che si può permettere di vedersi sottrarre dei soldi nel 2021 per essere destinati nei trienni o avvenire. E poi, l'ultimo, permettetemi un altro passaggio, il mantra mondiale della sinistra, soprattutto della sinistra toscana, che ogni giorno ci ripete il mantra della transazione ecologica, le immagini di Greta Thunberg, osannata come l'eroina dell'ambientalismo del terzo millennio, la regione toscana oggi taglia 8 milioni di euro, 8 milioni di euro alla transazione ecologica e all'efficientamento energetico. 8 milioni di euro che erano previsti per l'efficientamento energetico del 2021 rimandati al prossimo triennio. Quindi o il mantra serve solo in conferenza stampa o evidentemente c'è un cortocircuito che non torna. La variazione di bilancio cade in un momento molto complesso dal punto di vista finanziario per la regione toscana per il grave buco di bilancio legato alla sanità che abbiamo. Ma di fatto non ci si aspettava che questa variazione potesse risolvere problemi così grandi, ma neanche che, come abbiamo visto troppe volte, si riducesse semplicemente a piccoli favori. Potrebbero essere letti così sul territorio, legati a interessi del singolo consigliere piuttosto che dell'amicizia con qualche sindaco, invece che qualcosa di più ampio. Di fatto vengono sostenute alcune istanze sicuramente condivisibili, ma niente di più. Ci si riduce soltanto a piccoli interventi che mancano di una visione di più ampio respiro, a una programmazione che di fatto è quello che avviene ogni volta che ci sono delle variazioni al bilancio. La cosa che più ci preoccupa è che ci sono una serie numerosa di rimodulazioni delle spese che ci fanno capire che c'è un problema di capacità di spesa, di programmazione e di realizzazione di cronoprogrammi in molti progetti. E questo è un problema che interessa gli enti locali e che probabilmente ci dovrebbe interessare in un'ottica di coordinamento tra tutti gli enti locali e il governo, ma soprattutto della capacità della regione di riuscire a fare una cabina di regia su questo. Il nostro è stato un voto positivo, una variazione di bilancio che ha confermato quello che stiamo dicendo negli ultimi mesi. No all'aumento delle tasse, serviva fare un'allocazione corretta delle risorse che attualmente sono a disposizione della regione. Quindi aver liberato oltre 70 milioni di euro consente di mettere in sicurezza i fondi della sanità, continuare a dare servizi, erogare e dare risposte rispetto alla battaglia del Covid, non gravare sui cittadini. Era una battaglia politica che noi abbiamo portato avanti e abbiamo vinto questa sfida che serviva per non aumentare nuove tasse, ma soprattutto per trovare una risposta corretta alle esigenze del sistema sanitario e anche una collocazione corretta, essendo ormai a novembre, delle risorse a nostra disposizione. Quindi siamo stati convinti che questa sia stata una battaglia giusta. Nel frattempo abbiamo fatto prendere un impegno al Consiglio regionale rispetto agli stanziamenti sulle scuole, rispetto agli interventi necessari, urgenti a causa dell'incremento dei prezzi che molte realtà hanno quando vanno a realizzare nuovi interventi edilizi. Abbiamo presentato un emendamento in merito, abbiamo accettato di ricondividerlo da qui la sessione di bilancio per dare una risposta organica a tutta la Toscana. Nella settimana in cui ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre, il Consiglio regionale ha promosso tante iniziative come simboli al centro dell'Aula Consiliare, sono state messe una sedia vuota e un paio di scarpette rosse. Nell'auditorium di Palazzo del Pegaso è stato presentato il libro di Ilaria Bonuccelli Per ammazzarti meglio, che racchiude 12 storie al femminile che fanno emergere la negligenza delle istituzioni e la loro incapacità nel proteggere le donne vittime di violenza e come l'azione dello Stato si dimostri spesso inefficace a garantire loro sicurezza e giustizia. Voglio ringraziare Ilaria Bonuccelli e la mia presenza qui è per sostenere questa battaglia che Ilaria da cronista libera qual è sta portando avanti questa è una battaglia di tutti, richiede un grande cambiamento culturale ognuno di noi sarà meno libero finché ogni donna non potrà vivere la sua vita liberamente e come meglio crede. A volte leggo parole di eminenti giornalisti oppure politici che parlano di amore quando ci sono violenze di questo genere io invece credo che ognuno di noi debba dire con forza che ogni atto di questo genere è qualcosa di violento in cui la parola amore non può esistere oggi la mia presenza qui è per esprimere vicinanza ad una battaglia culturale e noi come istituzione vogliamo condurre con grande forza e per cui tutto il Consiglio regionale senza distinzione sta portando avanti ed è un punto su cui tutti noi dobbiamo impegnarci. Un libro che parla di violenza di genere ma in un modo particolare cioè racconta come lo Stato in tutte le sue declinazioni è complice della violenza di genere facciamo un esempio se una donna viene maltrattata per anni dal suo compagno un'ordinanza di allontanamento non può essere un allontanamento a 3 metri cioè un divieto di avvicinamento a 3 metri oppure se una donna viene strozzata dal marito e si salva per caso il giudice non può decidere che il divieto di avvicinamento alla casa familiare è tutti i giorni ad eccezione del lunedì dalle 9 a mezzogiorno perché come i barbieri gli assassini il lunedì non lavorano. Questo libro è l'inizio di un percorso che la Commissione Pari Opportunità vuole fare proprio di formazione di tutte le figure che fanno parte della giustizia quindi carabinieri, forze dell'ordine, magistrati proprio per formarle verso le questioni della violenza sulle donne perché sono questioni molto delicate e hanno bisogno di personale estremamente formato non solo per quanto riguarda il personale della giustizia ma anche il personale dei media Ilaria Bonuccelli è una giornalista molto attenta ai problemi della violenza sulle donne e ai femminicidi però spesso e volentieri il linguaggio dei media non è così corretto nei confronti delle donne si cerca a volte di giustificare i raptus omicidi degli uomini violenti e quindi anche in questo caso è il caso appunto di portare avanti delle forme di formazione anche per i giornalisti per cercare di abbattere anche quelli che sono gli stereotipi che sono alla base della violenza. La Commissione regionale toscana per le pari opportunità presieduta da Francesca Basanieri ha presentato la campagna di comunicazione per il contrasto alla violenza di genere sostenuta dai soggetti della grande distribuzione l'obiettivo principale è diffondere in modo capillare la conoscenza del 1522 il numero unico per denunciare le violenze contro le donne nell'occasione sono state indossate spille con un fiore rosso donate dalla Commissione ai consiglieri e agli assessori Rilanciamo la campagna per la conoscenza del numero antiviolenza e antistalking nazionale 1522 un numero fondamentale per conoscere la rete antiviolenza attiva sul proprio territorio di riferimento ma non solo appunto perché la violenza contro le donne si combatte soprattutto dal punto di vista culturale quindi anche promuovere una cultura del rispetto della parità contrastare gli odiosi e intollerabili stereotipi di genere che ancora oggi purtroppo permangono all'interno delle nostre società diventa fondamentale quindi voglio davvero ringraziare tutti i soggetti della grande distribuzione che hanno aderito alla Commissione regionale pari opportunità per questa iniziativa perché è importante lottare tutte e tutti insieme contro un fenomeno che purtroppo è ancora ben radicato nella nostra società non è un fenomeno emergenziale ma è un fenomeno purtroppo strutturato e quindi ancora più difficile da radicare i numeri li abbiamo presentati ieri grazie al lavoro preziosissimo portato avanti all'osservatorio sociale regionale ci dicono che su questo fenomeno occorre ancora oggi tenere alta l'attenzione perché non è possibile che ci siano ancora oggi vite di donne interrotte ma anche di figli e di figli che sono loro stessi vittime di violenza o che assistono appunto a episodi di violenza e quindi l'impegno da parte di tutte e di tutti anche degli uomini perché il tema della violenza di genere così come le disuguaglianze di genere non è un problema delle donne ma è un problema della società e quindi dobbiamo davvero affrontarlo tutte e tutti insieme non è soltanto una campagna per promuovere il 1522 ma è una serie di iniziative fatte assieme alla grande distribuzione e l'elemento importante è che tutta la grande distribuzione presente in Toscana si è attivata contro la violenza contro le donne questo è un elemento importante perché la capillarità con cui può arrivare un messaggio mandato all'interno dei negozi della grande distribuzione è un elemento che serve a tutte le donne che sono vittime di violenza quindi l'obiettivo è sicuramente quello di amplificare il numero 1522 il numero appunto che tutte le donne che sono vittime di violenza o di stalking a cui possono accedere per chiedere aiuto ma anche lavorare affinché queste cose non accadano e quindi costruire all'interno delle strutture, dei negozi, della grande distribuzione formare del personale affinché sia una sorta di sentinella antiviolenza cioè riesca a comprendere le persone, spesso persone e donne fragili che sono in quel momento vittime di violenza e le donne possono trovare nelle persone che magari conoscono perché quotidianamente vanno a fare la spesa, a comprare il pane un appiglio per poter chiedere aiuto quindi la possibilità di lavorare assieme alla grande distribuzione fa sì che l'aiuto alle donne sia ancora più forte, più profondo e ripeto il messaggio sia più capillare in questo modo riusciamo a raggiungere più donne possibili e più donne possibili in maniera forse anche più naturale che andare per esempio in una stazione dei carabinieri possono finalmente chiedere aiuto L'impegno di COP si è concretizzato in due diversi progetti il primo quello di diffondere il più possibile il numero unico antiviolenza e stalking il 1522 che come è stato ricordato ma non ci stanchiamo mai di dirlo può essere chiamato 24 ore su 24 da tutte le donne che si trovano in situazioni di violenza e che hanno bisogno di aiuto quindi il 1522 è stato stampato su tutti gli scontrini emessi in questo periodo è stato diffuso vendita con pannelli è stato inserito all'interno dei bagni dei supermercati COP per essere accessibile alle donne nella situazione di quotidianità che è il fare la spesa, l'andare al supermercato oltre a questo sono stati donati 80.000 euro che in questi 12 giorni dal 13 di novembre al 25 sono stati raccolti, indicati diciamo dai consumatori che comprando una bottiglia d'olio extravergine d'oliva hanno così donato un euro per i centri antiviolenza della regione toscana il sostegno ai centri antiviolenza deriva dal fatto che c'è necessità di aiutare le donne non solo il 25 novembre ma di far sì che l'aiuto, il supporto sia garantito tutto l'anno e quindi anche non solo la sensibilizzazione all'utilizzo del numero e al problema ma anche un aiuto concreto appunto in termini economici a chi tutti i giorni alle operatrici, nella maggior parte dei casi dei centri che concretamente sono sul territorio Noi di Conad Nord-Ovest abbiamo aderito con entusiasmo a questa campagna promossa dalla regione toscana e lo abbiamo fatto anche perché oltre alle azioni che ci sono state richieste in realtà noi eravamo già molto attenti al tema della violenza contro le donne e quindi autonomamente avevamo già iniziato una campagna di sensibilizzazione sia attraverso la stampa del numero antiviolenza su tutti gli scontri nei supermercati ma anche soprattutto con un gesto simbolico molto forte che è quella dell'installazione delle panchine rosse dove è possibile o presso i nostri supermercati o presso giardini pubblici insomma nei luoghi dove le istituzioni ci indicano la necessità appunto di avere questa panchina rossa che è soprattutto un simbolo per ricordare il numero dei centri antiviolenza